Il fuoricorso all'università non si recupera. Un attimo, un attimo, fatemi spiegare. Partiamo dalle basi. Che cosa si intende esattamente per fuoricorso? Il fuoricorso all'università è quella situazione in cui si sono accumulati dei ritardi nello studio che ci hanno portato a non riuscire a sostenere tutti gli esami che avremmo dovuto sostenere secondo la progressione tipica dei vari anni di studio, il corso per l'appunto di studi, e ci siamo ritrovati quindi a doverci laureare in ritardo perché abbiamo degli esami da recuperare o perché ci stiamo mettendo più tempo di quello che è previsto per affrontare le varie annate di studio all'università. Spesso gli studenti che sono in fuoricorso si sentono soli, si sentono in difficoltà e si sentono anche isolati, ma la realtà è che tantissimi, troppi studenti e studentesse si trovano esattamente in questa situazione. È veramente comunissima in ogni facoltà per mille motivi diversi. C'è chi si ritrova in fuoricorso perché capisce di avere sbagliato il proprio percorso, perché detesta la facoltà, per delle difficoltà nella relazione con gli insegnanti, per la mancanza di un buon metodo di studio, cosa che potrebbe risolvere con un sistema DC, o per la convivenza con un blocco psicologico, e anche lì c'è studente strategico che è ad hoc. Ma poi ci sono anche mille altre motivazioni possibili. Il concetto è che per un motivo o per l'altro ci si ritrova ad essere in ritardo sul percorso. E che cosa succede quando si finisce appunto in questo ritardo? Che cosa succede quando si diventa degli studenti o delle studentesse in fuoricorso? Beh, oltre a sviluppare purtroppo sensi di colpa, oltre ad avere una ricaduta sul nostro stato psicofisico, sulla nostra motivazione, la cosa più comune in assoluto è che si comincia a pensare a come uscirne dal fuoricorso, naturalmente. È giusto, no? Ecco no, è sbagliato, è sbagliatissimo. Purtroppo sì, è così che ragionano la maggior parte degli studenti e delle studentesse in fuoricorso, ma questo è un errore clamoroso e rischia di peggiorare la vostra situazione. Quindi statemi a sentire. No, non dovete cominciare a pensare a come recuperare il fuoricorso. Errore. Perché cercare di recuperare sarebbe un errore? Beh, perché quando ci si pianta con lo studio, come dicevamo un paio di frasi fa, questo significa che da qualche parte esiste una o più oggettive difficoltà con la preparazione degli esami o con la gestione della vita universitaria. Qualunque sia la situazione, qualcosa è andato storto, non c'è dubbio su questo. E se noi cominciamo per recuperare a cercare di aumentare il ritmo ancora di più, senza aver risolto i problemi che ci hanno portato a diminuirlo il ritmo, beh, finiremo soltanto per aumentare il nostro ritardo. Finiremo per creare un disastro, per creare le condizioni per un blocco vero e proprio. Il carico di stress aumenterà a dismisura, le situazioni problematiche tenderanno a esacerbarsi perché bisognerà correre ancora di più e alla fine il fuoricorso crescerà. E lo so che magari c'è qualcuno di voi che sta pensando, ma no, non è vero, è una cazzata, oppure io invece sarei in grado di recuperare, fidatevi di me. Io ho lavorato nel corso degli ultimi anni con centinaia di migliaia di studenti ormai e questo è un copione classico, è un copione comunissimo. Si cerca di recuperare, si cerca di aumentare il ritmo e si finisce per essere ancora di più in fuoricorso. Il dottor Bartoletti che vi ho portato sul canale mille volte, psicologo, psicoterapeuta, abbiamo realizzato insieme studente strategico, un esperto vero di blocco dello studente, ha una definizione specifica per questi sogni di recupero folle, queste sessioni da otto esami. Beh, lui le chiama fantasie compensatorie. Non sono altro che dei meccanismi psicologici, delle tentate soluzioni, per usare la terminologia della psicoterapia strategica breve, che non fanno altro che rassicurarci in qualche modo. Ci mettono a nostro agio perché possiamo guardarci allo specchio e dirci sì, ok, sei in fuoricorso, sei in ritardo, hai fatto una cavolata, però nella prossima sessione spacchi tutto, si recupera, bam, e poi ritorniamo in pari. È un bel modo per illuderci che di fatto non c'è problema, che riusciremo a recuperare tutto e a tornare perfetti. Ma non è mai così che va però. È una fantasia questa. Mi dispiace essere quello che frantuma i vostri sogni, ma bisogna guardare in faccia la realtà. Non è così che va, se non in casi rarissimi, statisticamente influenti. Questa invece è la strada perfetta per piantarsi del tutto. La forza di volontà non basta. Non ci salveremo dal fuoricorso solo perché lo vogliamo, solo perché lo speriamo, o solo perché lo sogniamo. Ma allora cosa bisogna fare? Bisogna arrendersi? No. Quello che dobbiamo fare è rimanere concreti. Il modo migliore per affrontare e poi un domani superare il fuoricorso è porsi tre obiettivi precisi da seguire uno dopo l'altro. Il primo obiettivo può sembrare banale, ma è non fermarsi. Cioè fare di tutto per curare gli aspetti metodologici e psicofisici ed evitare il blocco totale. Perché quando cominciamo ad essere in fuoricorso ci stiamo avvicinando al momento in cui potremo bloccarci completamente. Cioè non procedere più lentamente, ma proprio non procedere più. Ecco, noi dobbiamo assolutamente assicurarci di non fermarci, assicurarci di avere sempre almeno un esame che stiamo preparando, assicurarci di fare un esame dopo l'altro. In questa fase, quando ci dobbiamo assicurare di non bloccarci, non è ancora importante con che velocità, con che rapidità, con che ritmo diamo gli esami. L'importante è darne sempre qualcuno, è sempre essere in movimento per scongiurare la terribile situazione del blocco totale che diventa molto, molto, molto più difficile da superare. Quando ci siamo assicurati di questo, arriva il secondo obiettivo. Quando siamo certi che non ci fermeremo, a quel punto la priorità diventa non recuperare il fuoricorso ancora una volta, ma diventa non aumentare il fuoricorso. Cioè dobbiamo risolvere i problemi che ci avevano portato a rallentare e recuperare il ritmo normale dell'università. Dobbiamo lavorare su noi stessi per arrivare a poter seguire le lezioni in pari, per cercare di dare a tutti i costi il numero di esami che si dovrebbero dare, con un ritmo normalissimo, in corso, non di più, non più veloci del normale. Veloci il giusto. Se la media della mia facoltà richiede 6 esami l'anno, io dovrò cercare di dare 6 esami l'anno. Questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo costruire un ritmo e ritornare ad avanzare a quella stessa velocità che si sarebbe dovuto tenere fin dall'inizio, con un occhio alla sostenibilità a lungo termine. E a questo punto arriva il terzo obiettivo. Quando siamo sicuri di aver recuperato un ritmo normale, allora si comincia a cercare di diventare più efficienti. Si comincia a cercare di migliorare ancora di più con l'organizzazione, con il metodo di studio, per aumentare la velocità e la regolarità con cui passiamo i nostri appelli, con cui diamo i nostri esami. Pian pianino diventiamo sempre più efficienti, sempre più rapidi. E quando questi tre punti, questi tre obiettivi sono stati raggiunti, quando ci sentiamo sicuri, quando abbiamo recuperato il ritmo, quando stiamo diventando più efficienti, quando ci si presenta l'opportunità giusta, allora si può pensare a recuperare gli arretrati e ad aumentare leggermente il ritmo di studio. Leggermente! Attenzione però, non sarà sempre possibile, non sempre ci si riesce, non sempre si riesce a sviluppare la velocità sufficiente, non si deve mai porsi degli obiettivi eccessivi che rischiano di nuovo di diventare una fantasia e di rigettarci nel ritardo. Se ci capita la situazione giusta, se magari c'è una sessione abbastanza semplice, ormai magari siamo diventati delle macchine da guerra con gli esami, allora bene, magari riusciamo ad inserire un esame in più e così abbiamo eroso un pochettino il nostro fuoricorso, abbiamo recuperato un pochettino di terreno. E poi nella sessione successiva vediamo se si riesce ad inserirne uno in più di nuovo meglio così, erodiamo un altro po' il fuoricorso oppure si mantiene allo stesso ritmo regolare. In ogni caso, ogni volta che possiamo, ogni volta che notiamo questa opportunità, ci becchiamo un esame in più. Questa è la strada più corretta, ma non la si deve inseguire a tutti i costi. I primi tre punti, i primi tre obiettivi sono quelli importanti, quelli fondamentali. E poi, a quel punto, pian pianino, quando capita, recuperiamo qualcosina. Non si tentano i recuperoni selvaggi, non si tentano le sessioni doppie, non ci si chiude in casa per studiare giorno e notte, non si fanno delle follie, non si trangugiano ettolitri di caffeina, non si indugia nelle fantasie compensatorie. Si rimane coerenti, si fa un passetto alla volta, non ci si ferma, si migliora e pian pianino si recupera qualcosina. Questa è la strada giusta. E lo so che non è quello che vorreste sentirvi dire. Non è la bacchetta magica che vi permetterà di recuperare. Qualcuno di voi starà pensando, ma così facendo, magari io non recupererò mai il mio fuoricorso. Magari se ho due anni di fuoricorso, mi laureerò per forza con due anni di ritardo. Non riuscirò a recuperare il ritardo che avevo accumulato. Purtroppo è così. Purtroppo spesso il fuoricorso non si recupera proprio o al massimo si erode un pochettino. Purtroppo all'università è veramente raro, e mi dispiace dirlo, mi dispiace essere io quello che ve lo deve raccontare, è veramente raro che se ci si accumula del ritardo, poi quel tempo, quel ritardo, si riesca a rifarlo rientrare e a ritornare a laurearsi in tempo. Non succede quasi mai. Quello che succede è che gli studenti più terra-terra, gli studenti con i piedi ben piantati, fanno quello che vi ho appena descritto. Si assicurano di non fermarsi, cominciano a riattivare un ritmo regolare, diventano più efficienti, recuperano qualcosina e si laureano con un pochettino di ritardo, cercando però di minimizzare i danni. La soluzione semplice purtroppo non esiste, e mi dispiace se questo video vi ha un pochettino buttato giù, ma secondo me avere una chiara visione di quello che davvero può succedere vi può aiutare a cominciare a strutturare un piano, vi può dare degli obiettivi concreti e vi può soprattutto aiutare a non peggiorare la situazione e ad ottenere il meglio che potete dal vostro percorso attuale all'università. Se poi volete approfondire e sviluppare tutti gli strumenti più adatti per studiare al meglio, nel modo più sostenibile, duraturo possibile, beh allora io vi aspetto in Sistema DC, ormai lo conoscete, è il mio videocorso completo di metodo di studio in cui tutti questi argomenti sono spiegati al più dettaglio del dettaglio. È veramente un corso della qualità straordinaria, ormai migliaia e migliaia di studenti ci hanno dato fiducia e abbiamo ricevuto veramente dei feedback pazzeschi, andatevi a vedere le recensioni su Trustpilot, io vi aspetto in Sistema DC perché può veramente fare la differenza per voi, specialmente se siete in una situazione problematica con magari del fuoricorso. Per il resto io vi ringrazio di aver guardato, vi do appuntamento al prossimo video e aspetto qui sotto i vostri commenti. Apriamo una bella area di discussione e buono studio.